ai miei allievi gli do questi esercizi per slogargli la percezione cioè per passare dal gioco dei simboli al gioco della percezione cioè da quello che so a quello che vedo ci siamo adesso io c'ho la bocca questa bocca qui insomma questa questa specie di scarabocca c'ha una bocca che metto di scorcio quindi di tre quarti allora ogni elemento sta nel suo contesto sempre quando disegno non disegno mai un elemento isolato ma disegno un elemento nel suo contesto ci siamo qui c'ha il naso qui c'ha umbra cioè c'ha tutte queste cose allora questo volto sta di scorcio io momento diciamo così qui è la base del mento qui sarà l'altra linea sta così e poi il mento se ne va indietro e adesso non sto a fare un disegno esatto quello che conta è un disegno che mi faccia capire come si muove com'è la situazione ok questo lo dico poi qui che c'è qui chiaramente si stonda qui si stonda qui c'ho l'asse l'asse del volto guardate che questo è di meno e questo è di più giustamente per questioni prospettiche qui ci posso mettere un un ovale e qui ci posso mettere un altro ovale adesso non so se avete visto che io istintivamente ho fatto della prospettiva lo vedete dopodiché qui il profilo del volto questo qui è un bel disegno perché ti fa ci dà la possibilità di individuare dei punti cardine che si possono andare a vedere quest'asse a questo punto rientra questa l'asse sta qua questo questo di questo è un cerchio questo è un altro cerchio qui c'è una zona di rientro perché si va qui sotto il labbro inferiore e allora questa parte se ne va dentro e qui ci abbiamo un arco che poi definiremo da questo punto e da questo punto qui c'è un arco così anche queste parti vanno in dentro ok dopodiché invece da questo punto e quindi ho individuato alcuni punti e poi qui c'è lui e qui l'ha disegnato male vedi che è furbastro perché se io faccio questo punto e qui cala per trovare questo punto qui non posso mica fare un triangolo devo continuare a fare questo lavoro qui vedi che se gli hanno mandato un modello un po sbagliato finisce che io faccio un manuale disegno perché continuo a trovare errori su errori sui disegni anatomici su un stato per cui poi finisce che mi ci tirano per i capelli a farlo e va bene adesso di nuovo questo torniamo a questa linea qui rientra ma poi mi riesce ok e qui di nuovo ma poi lì sbaglia nel modello sbaglia pure la prospettiva va bene allora cerchiamo di farlo un po meglio oppure state a guardare come sbaglio perché magari invece c'ha ragione lui quello che ha disegnato quel modello vediamo non è perfetto quel modello lì adesso vediamo è qui qui mi ha messo un triangolo mentre cioè se questo è un trapezio anche qui ci deve essere un trapezio a casa mia invece lui mi ha messo un triangolo per fare più in fretta e non è corretto non è neanche elegante grazie a tutti